Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Sono stati momenti di tensione in Emilia-Romagna e alcuni utenti sui social hanno lanciato numerosi post in cui dicevano di aver sentito vibrare il pavimento. Altri hanno commentato di aver sentito un forte boato, ma vediamo dove si è verificata questa scossa e se c'è possibilità che in queste ore se ne verifichino altre. Prima di vedere i dettagli, ecco una piccola curiosità. Quanto è durato il terremoto più lungo in Italia? Alle 3.32 del 6 aprile 2009, dopo una sequenza sismica durata quattro mesi, una forte scossa di magnitudo 6.3 colpisce il territorio aquilano e abruzzese. Il terremoto provoca 309 vittime e oltre 1500 feriti, soprattutto nel capoluogo e nella frazione di Onna. Questo sarebbe stato il terremoto più lungo in Italia, ma ora passiamo la scossa rilevata in queste ore. Oggi, 30 settembre 2024, è stata avvertita una scossa di terremoto di magnitudo 3.3. Il sisma si è verificata alle ore 4.46 minuti e 40 secondi con epicentro localizzato nei pressi di Marano sul Panaro Modena, nella regione Emilia-Romagna. È stata stimata una profondità nel sottosuolo, ovvero l'ipocentro, di 31.3 chilometri. La scossa è stata avvertita, come detto in precedenza, lievemente dalla popolazione, in particolar modo nella zona epicentrale, ma senza causare alcun danno. Lievi tremori giunti anche nelle città di Bologna e Modena. Al momento pare non ci siano altre scosse di assestamento in vista. Grazie per la visione. Ricordati di iscriverti al canale e attivare la campanella.